Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video vi spiegherò come convertire tutte le immagini del vostro blog nel formato WebBP, cioè il formato utilizzato da Google per le immagini al fine di velocizzare di molto, quindi alleggerire e ottimizzare il vostro sito web. Se avete aperto magari il blog da tanto tempo e avete sempre utilizzato immagini JPEG, PNG e così via dicendo, grazie a questa guida di cui vi parlerò oggi potete convertire tutte le immagini che avete sul sito nel nuovo formato e sostituirle. In altre parole il tutto viene tramite un plugin gratis da me testato. Come funziona? Questo plugin, in altre parole, prima di mostrarvi ovviamente il funzionamento, crea una versione WebP dell'immagine, o meglio di tutte le immagini che avete sul sito. Quindi avrete una cartella nell'FTP dove ci saranno tutte le immagini quelle che avete adesso e in un'altra cartella tutte le immagini WebP, scusate, praticamente il nuovo formato. Una volta che sono state convertite tutte le immagini, abilitando una sola voce, praticamente direte al sito, mostra agli utenti, ai visitatori, a coloro che comunque vengono sul sito, le immagini nel formato WebP. In questo modo diciamo anche il motore di ricerca Google e tanti altri, insomma, strizzeranno l'occhio al vostro sito Web perché comunque utilizzate il formato WebP che è molto ma molto leggero e comprime le immagini senza rovinarne la qualità. Quindi diciamo l'utente potrà venire sul vostro sito Web o blog, visitarlo velocemente, aprendo le pagine senza lunghi periodi di attesa, grazie appunto al formato WebP da voi utilizzato e quindi ne gioverete entrambi, sia voi che avrete ovviamente più utenti che gli utenti che vengono sul vostro sito. Fatta questa premessa, vediamo dunque come funziona questo plugin. Allora, andate nelle impostazioni del vostro blog, quindi nel pannello amministrativo. Una volta che siete nel pannello andate su plugin aggiungi nuovo e dovete installare questo. Adesso ve lo mostro, ovviamente. Ne ho provati tantissimi, questo è gratis e funziona al 100%. Eccolo qua, WebP Express, quindi cliccate su aggiungi nuovo. Attendiamo, caricamento. Digitate WebP Express nel campo di ricerca e ve lo ritroverete. È questo qua praticamente. Quindi lo installate e lo attivate. Dopodiché andate sul plugin. Ora non ricordo bene in quale sezione sta. Eccolo qua, perfetto. Impostazioni WebP Express. Ora, se le immagini nel vostro sito web sono tantissime, come nel mio caso un anno di immagini, impiegherete un giorno abbondante per convertirle tutte. Quindi lasciate le impostazioni così come sono, non toccate nulla, o a meno che volete modificare la qualità delle immagini, la compressione, eccetera. Io non ho toccato nulla, quindi scendete in basso, assicuratevi che la voce WebP si attiva e cliccate su Bulk Convert. Verrà analizzato il vostro sito e se ci saranno, e sicuramente sarà così, delle immagini da convertire, il plugin vi dirà, ok, ho trovato 100 immagini che dovete convertire in WebP. Che faccio? Procedo? Ovviamente cliccando su Start, adesso a me non esce perché non c'è più alcuna immagine non convertita, inizierà la procedura, quindi impiegherà diverso tempo, a seconda poi di quante immagini avete. Potete anche metterla in pausa, continuarla dopo, le immagini convertite non verranno riconvertite di nuovo. Una volta fatto questo avete la possibilità di decidere se cancellare le immagini convertite, personalmente ve lo sconsiglio. Fatto questo, attivate questa voce e il gioco è fatto. Praticamente tutte le immagini presenti sul vostro sito Web verranno convertite nel formato WebP e verranno attivate, sostituite dunque a quelle JPEG, JPG, PNG, eccetera, eccetera. Queste immagini saranno ancora presenti nel vostro FTP, ma le immagini verranno visualizzate nel nuovo formato. Inoltre, cosa interessante, non dovrete fare questa procedura sempre, basterà una sola volta perché poi tutte le immagini che voi caricherete nel vostro sito Web, che siano JPEG, PNG, eccetera, verranno automaticamente convertite e attivate nel formato WebP. Spero di essere stato chiaro, se ci sono domande non esitate a lasciare un commento, lasciate un like se questo video vi è servito e iscrivetevi al canale per supportare TechGaming. Spero di essere stato chiaro, se ci sono domande non esitate a lasciare un commento, di essere stato chiaro, se ci sono domande non esitate a lasciare un commento,